Geopolis 250. Allora questo scooter ha un problema. Il problema è che nel caso in cui la batteria collassa non si può aprire il vano sotto sella mediante la chiave perché di tipo elettrico. Come si fa ad aprire? Allora semplicemente si toglie lo scudo anteriore, togliendo push la vite qui, questa vite qui, e la vite che si trova qui, tolto lo scudo, noi abbiamo il blocchetto dell'accensione. Che cosa facciamo? Si spella un cavo rosso e mediante una batteria si fa il ponte. Batteria, polo positivo, cavo rosso. Polo negativo si può utilizzare questo perno. Dove sta? Eccolo qua. Si può utilizzare questo perno per fare il negativo. Così facendo si dà energia allo scooter. Poi dopo ovviamente questa spellatura mediante una lama o un coltellino si porta fuori il cavetto rosso e si riesce ad aprire il vano sotto sella in modo molto tranquillo. Ovviamente ingegneri.